ciao da Andrea il vostro ukulele coach breve video per aggiornare o meglio per spiegare cos'è ukulele coach academy e cioè il gruppo facebook gruppo privato gratuito al quale potete iscrivervi tranquillamente rispondendo a due domandine che riguardano il canale questo per essere sicuri che chi si iscrive sia qualcuno che segue il canale dicevo quindi cos'è questo ukulele coach academy è un gruppo privato su facebook una sorta di piccola classe virtuale di ukulele dove i libri diciamo di questa classe virtuale sono i vari pdf e tutorial che trovate sul mio canale quindi li potrete postare le varie canzoni o lezioni che avete fatto seguendo il mio canale e ricevere aiuti consigli per poterle migliorare sia canzoni che lezioni o esercizi vari quindi potrete postare tranquillamente anche più versioni dello stesso brano migliorandolo appunto magari ricevendo anche dei consigli da me o da altri che frequentano il gruppo facebook e poi i brani li potete anche postare una volta che magari riescono bene vi piacciono li potete tranquillamente postare su altri gruppi pubblici di ukulele o altre cose i vostri video l'importante è che citiate la fonte cioè che se fate una canzone che proviene da un mio tutorial sottoscrivete scrivete il mio nome da qualche parte se volete anche un link al video da dove l'avete appreso quindi fate voi è importante che citiate la fonte quindi sentitevi liberi di postare le canzoni sia nel gruppo e quando vi vengono bene anche fuori dal gruppo quindi il gruppo è proprio il posto ideale dove mettersi alla prova l'unica cosa che non potete fare nel gruppo è postare canzoni che provengono da altri tutorial cioè quindi non dal mio canale questo perché perché diventerebbe un posto dove tutti mettono di tutto visto che in questo caso sul mio canale c'è già parecchio materiale e già seguire quello per me è già già molto lavoro quindi anche potervi dare dei consigli su quello richiede già un certo impegno quindi ricordatevi non postare nel gruppo cose provenienti da altri tutorial o da canzonieri che avete voi ma solo quelli che riguardano il canale per il resto sentitevi liberi di far domande anche tra di voi di scambiarvi consigli utili proprio anche tecnici per quanto riguarda lo strumento e l'esecuzione di certi brani anche in generale scelte degli straming e tutto il resto per ora vi saluto e niente vi aspetto su ukulele coach academy ciao da ukulele coach